Ciao a tutti e bentornati nel mio canale, sono Paola Reggiani e oggi affronteremo insieme un brevissimo e semplice argomento di analisi grammaticale, ovvero l'interiezione o esclamazione. Con il termine interiezione o esclamazione indichiamo espressioni che alludono a emozioni, stati d'animo, richiami, ordini, preghiere e saluti. Ma ricordatevi bene che l'interiezione o esclamazione ha una particolarità, cioè viene considerata una delle parti del discorso della lingua italiana, ma in realtà non ha legami grammaticali con il resto della frase. Significa che con un'interiezione all'interno di una frase, se noi decidessimo di toglierla, la frase non muterebbe il proprio significato. L'interiezione o esclamazione quindi serve esclusivamente per aggiungere sfumature di significato maggiore enfasi alla nostra frase, al nostro discorso. Anche nello scritto l'interiezione o esclamazione segue delle regole molto precise, per esempio quando si trova da sola è subito seguita da un punto esclamativo, l'esempio che vi propongo è mamma mia, punto esclamativo. Quando invece si trova di inizio di frase è subito seguita da una virgola e il punto esclamativo viene dislocato alla fine della frase. L'esempio che vi propongo è, oh che meraviglia! Esistono diversi tipi di interiezioni, adesso uno alla volta li affronteremo tutti. Esistono infatti le interiezioni proprie, le interiezioni improprie e le locuzioni esclamative. Partiamo dalle interiezioni proprie che svolgono esclusivamente la funzione di interiezione. Quando le trovate all'interno di una frase da analizzare secondo le regole dell'analisi grammaticale non dovete avere dubbi, queste sono sempre e solo interiezioni ed esprimono significati precisi ma svariati. Dolore, rabbia, noia, disgusto, sorpresa. Vi ho fatto qui sotto alcuni esempi. Aia, ehi, uff, oh, ma. Mentre le interiezioni improprie, queste potrebbero causarvi qualche problemino perché si tratta di nomi, aggettivi, verbi o avverbi isolati subito seguiti dal punto esclamativo proprio perché vengono pronunciati con un tono che non è quello classico ma è un tono esclamativo. È il caso ad esempio del nome aiuto. Aiuto! Punto esclamativo non dobbiamo avere dubbi, non lo analizziamo come un semplice nome ma come un'interiezione. Stessa cosa l'aggettivo brava. Non è Camilla è una brava studentessa, un semplice aggettivo detto con un tono tranquillo, piatto, ma è brava. Punto esclamativo. Questa è un'interiezione impropria. Stessa cosa per accidenti, cavoli, viva, forza! Infine terminiamo questa breve carrellata con le locuzioni esclamative che vengono chiamate anche locuzioni interiettive proprio dalla parola interiezione. Questi sono gruppi di parole o brevi brevi frasi usate in funzione esclamativa. Santo cielo, per carità, al ladro, al fuoco, mamma mia! Ecco allora che in un battibaleno la lezione è terminata. Se questa lezione vi è piaciuta o vi è stata utile, fatemelo sapere. Lasciatemi un like, iscrivetevi al canale oppure seguitemi sulla pagina Instagram. Ma la cosa a cui tengo di più è lasciate un commento o un appunto per integrare la mia spiegazione o per richiedermi altre video lezioni. Un caro saluto!